Maria, nel suo cantico, non dice che è contenta perché Dio ha guardato la sua virginità, la sua bontà, la sua dolcezza, tante virtù che aveva lei. Perché il Signore ha guardato la umiltà di sua serva, la sua piccolezza, l'umiltà, quello che guarda il Signore. Dobbiamo imparare questa saggessa di emarginarci perché il Signore ci trovi, non ci troverà al centro delle nostre sicurezze. Lì non va il Signore, ci troverà nella marginazione, nei nostri peccati, nei nostri sbagli, nelle nostre necessità di essere guariti spiritualmente, di essere salvati, lì ci troverà il Signore. E questa è la strada della umiltà. L'umiltà cristiana non è una vertù di dire, ma io non servo per niente, è nascondere la sopervia lì. L'umiltà cristiana è dire la verità, sono peccatore, sono peccatora, sono peccatrice. Dire la verità è questa, è la nostra verità. Ma c'è l'altra, Dio ci salva, ma ci salva là. Quando noi siamo emarginati, non ci salva nella nostra sicurezza. Chiediamo la grazia di avere questa saggessa, di emarginarci. La grazia è dell'umiltà per ricevere la salvezza del Signore.